la trattativa c'era c'è mi ero sbagliato io ben trovati ben trovati a tutti quanti voi è venuta fuori diciamo la verità sulla situazione di cup cup mainers come si chiama non riesco a dirlo mai questo nome è venuto fuori in maniera particolare che il giocatore praticamente è uscito allo scoperto si giocatore uscito allo scoperto e ha praticamente fatto intendere o meglio ha detto chiaramente che vuole giocare nella juventus cup mainers e in questo momento un po a margine del progetto dell'atalanta in un'intervista all'eco di bergamo il tecnico gasperini il tecnico dell'atlanda gasperini ha detto il giocatore vuole allenarsi con noi non vuole giocare con noi vuole giocare con la juventus ha rifiutato anche altre offerte e vuole giocare soltanto con la juventus e dopo questa dichiarazione fatta all'eco di bergamo naturalmente si è scatenato il putiferio mediatico che porta una notizia del genere per cui anche chi come me tra i più scettici pensavano che la trattativa non fosse reale invece è una trattativa uscita fuori totalmente realmente e quindi una trattativa che praticamente porta la juventus a volere cup mainers il giocatore che piace tanto piace tanto a tutto l'ambiente bianconero detto questo va anche riferito che in pratica c'è questa posizione dell'atalanta tempo fa vi dissi in un contenuto in un video che se fosse stata vera la notizia insieme con cara fiori il mercato italiano alza un muro contro la juventus le dichiarazioni di gasperini di questa notte della notte scorsa sostengono proprio questo che si è alzato un muro contro la juventus i giocatori che hanno più mercato calafiori e cup mayers gli italiani non è che ne hanno tanto di mercato e sui quali la juventus era piombata calafiori l'hanno fatto andare nel mercato estero questo calciatore cup mayers lo hanno fatto andare nel mercato estero però lui ha rifiutato calafiori da 25 milioni di euro l'hanno salito a 50 milioni questo vogliono 60 milioni ma tutto il rispetto per l'atalanta per il bologna per per i calciatori questi sono cifre purtroppo molto molto onerose molto particolari ora dobbiamo vedere su la dichiarazione di gasperini quale è realmente la verità e qual è il motivo per il quale gasperini ha fatto questa dichiarazione davvero il giocatore praticamente è tanto pressante da non volersi allenare perché vuole la juventus oppure c'è una strategia dietro le dichiarazioni di gasperini perché probabilmente la juventus si è ritirata dall'acquisto del calciatore e allora l'atalanta che ora ha bisogno di denari perché non è vero che l'atalanta non ha bisogno di denari questa è una frottola una fake che gira non è che è una squadra che non naviga nell'oro ma è una squadra che comunque ha un giocatore al quale ha già promesso di la cessione di volerlo vendere perché quei soldi probabilmente servono ad altro quindi può darsi pure che gasperini ha parlato sotto dettatura della presidente del direttore generale quindi dei percassi per far muovere la juventus per dire venite che il giocatore vuole giocare con voi può essere anche questo una delle motivazioni perché questi hanno alzato talmente tanto le pretese che praticamente la juventus probabilmente si è tirata anche un po indietro e avrebbe virato su altre prospettive di mercato non sappiamo come sono le cose oppure realmente il calciatore fa diciamo muro contro muro con il tecnico con l'ambiente con la dirigenza con la società e allora in pratica gasperini è uscito allo scoperto a me questa uscita di gasperini sa molto di invito alla juventus venitevelo a prendere la vedo così è voi sapete che io non parlo mai di calciomercato soprattutto perché ritengo che le trattative che vengono messe fuori sono tutte false questa volta la trattativa l'ha resa pubblica l'allenatore dell'atalanta gasperini e quindi credo che tutto sommato tutto sommato c'è da da essere particolarmente attenti sulla vicenda perché è chiaro ed evidente che gasperini secondo me non ha parlato per se stesso gasperini uno che va a fare le guerre con i calciatori lo sapete non si tira indietro secondo me tra l'allenatore e la dirigenza c'è grande sintonia sotto questo aspetto e quindi probabilmente ci troviamo di fronte ad una situazione di grande apertura dell'atalanta io penso che la juventus stava per virare su altre figure magari si è messa anche di traverso su altre trattative che l'atalanta stesse facendo e il fatto che c'è grande movimento nella juventus lo dimostra che alla presentazione ufficiale di douglas luiz non c'era il direttore giuntoli proprio perché sono ore di grande lavoro per il massimo esponente dirigenziale bianconero vedremo come come va a finire sta storia vedremo anche se si chiuderà la vicenda perché non è detto perché se non c'è sintonia tra la società e gasperini e l'azione di cup meiners è un'azione diciamo di costruzione personale perché se ne vuole andare vediamo quando chiede questa atalanta vediamo quando vuole questa atalanta certo ora è più in discesa la trattativa rispetto a qualche settimana fa però io credo che una dirigenza importante molto seria e anche molto diciamo elegante come quella dell'atlanta va a alzare un muro su un giocatore del genere di 60 milioni cercando di portare la juventus per le palle mi sembra davvero troppo dico troppo perché parliamoci chiaro 60 milioni per questo cup meiners non li vale non li vale proprio questo giocatore non li vale proprio si sono talmente fissati per questo calciatore lo vogliono per forza io francamente tutti questi danari per questo ragazzo non li spenderei e tutto il blocco questo è una riserva del nazionale olandese ed è anche un giocatore che gioca con l'atalanta non è che dice che viene dal real madrid piuttosto che dal barcellona al band di monaco vedi 100 dall'atlanta che è una squadra rispettabilissima fatta di gente molto serie per bene come per cassi è guidata devo dire benissimo da gasperini che ha fatto grandi risultati meritatamente anche se per me gioca un calcio penoso ma questo ne ho detto già in altre circostanze vedremo che questa vicenda di cup meiners si chiuderà come si chiuderà quando si chiuderà se si chiuderà e vedremo come si vuole collocare questo calciatore nell'ambito della juventus stessa vediamo cosa succede nelle prossime ore ci terremo aggiornati naturalmente ripeto io non parlo di calciomercato perché non credo alle trattative che si fanno che raccontano i media non credo proprio niente ma visto che l'atalanta ha dichiarato che c'è questo atteggiamento di cup meiners non diventa più calciomercato perché non è più calciomercato ma è un modo diverso dice qui c'è una situazione cup meiners vuole la juventus e dato che io parlo di juventus è chiaro è evidente che poi traggo le conclusioni e dico ho sbagliato io perché non credevo alla trattativa invece la trattativa è reale la trattativa c'è la juventus vuole questo calciatore che completerebbe un centrocampo devo dire da favola perché douglas luiz etto ram sono due calciatori almeno stando alle prime battute del del campione della stagione devo dire fantastici la conferenza stampa di douglas luiz mi ha quasi commosso per come questo calciatore ha approcciato alla juventus per come questo calciatore ha fatto diciamo cose interessanti per 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 venire alla juventus e questo è molto molto importante molto interessante molto quotato perché questi comportamenti quotano quotano tantissimo come vedete la juventus e appetita come sentono juventus vogliono venire tutti perché questa è una squadra che ha chiaramente una brillantezza nel suo nome e non servono i fangaioli a diciamo voler rendere ruvida la storia della juventus i giocatori vogliono correre alla juventus anche la questione chiesa di cui abbiamo parlato nel video precedente è una questione molto particolare sulla quale torneremo e ci sono queste situazioni appese quella di cup meiners che deve sbloccarsi da un momento all'altro sia in bene che in male questo punto più diciamo in bene troveranno un accordo la juventus l'atalanta vista la volontà decisa nel calciatore poi c'è la questione di chiesa vedremo come si evolverà la questione relativa a chiesa e poi c'è la questione del centrale difensivo e poi ci dovrebbe essere un giocatore destinato alla juventus e invece dice no io voglio la juventus e lui non vuole la juventus nel calcio inglese nella premier league vuole la juventus pensate l'importanza della juventus e poi ci dovrebbe essere una punta che deve arrivare per diciamo dare un sostituto a appunto a vlaovic mi fermo qui vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube sergio vesica attivare la campanella notifica mettere un like se lo riterete opportuno ritengo che voi nei vostri giudizi nelle vostre diciamo nelle vostre nei vostri commenti dite la vostra perché secondo me è sempre meglio della mia alla prossima